Quest'oggi invece voglio parlarti dell'acqua. L'acqua è un elemento molto importante. Se non bevi l'acqua, purtroppo il tuo corpo non riesce ad eliminare le sostanze. E se non riesce ad eliminare le sostanze, non elimina neanche il grasso. Il grasso esce dal corpo solo ed esclusivamente con l'acqua. Quindi il consiglio mio personale è di bere almeno, almeno, un litro e mezzo di acqua durante la giornata. Fai fatica? È normale, abituati, è una cosa normale. Però la cosa importante è che tu ne possa bere almeno un litro e mezzo. Anche due o tre sarebbe meglio. Un accorgimento importante è che deve essere quest'acqua naturale, possibilmente a temperatura ambiente, così ne riesci anche a bere di più, perché se è fredda fai più fatica, hai mai notato? E cosa ancora più importante, per essere bevibile, più bevibile, deve essere leggera. Per essere leggera deve avere un residuo fisso a 180 gradi, lo trovi sull'etichetta, che deve essere minore di 50. Ce ne sono diverse, come per esempio la Lauretana, la Sant'Anna, la San Bernardo. Io attualmente sto utilizzando San Leonardo. E guardate, vi faccio vedere il residuo fisso. Lo vedete? Deve essere meno di 100, deve essere a 180, deve essere meno di 50. E questo è 44. Quindi, per quanto riguarda l'acqua, mi raccomando, almeno un litro e mezzo, meglio se arrivi addirittura a tre. So che è difficile, ma ti aiuta a eliminare tutto. Se non bevi, non vai in bagno. E se non vai in bagno, non elimini grasso. Ci vediamo alla prossima. Ciao!